Mi chiamo Simone, ho 44 anni, abito a Modena e sono nato a Modena. Da sabato mi aspetto a un grande evento, oltre che un ottimo concerto, oltre che un bel concerto, un grande evento, tipo un festival, tipo Woodstock. Sì, secondo me Modena è il posto perfetto per fare questo concerto, perché la carriera di Vasco è partita qui ed è giusto che ci sia una tappa così importante nella città dove tutto è partito. La musica di Vasco per me significa tante cose. Io sono cresciuto con Vasco e mi è stato regalato, quando avevo 10 anni, fin l'83, i 45 giri con vita spericolata e dall'altra parte mi piace il perché, mi è stato regalato per errore, quindi è una cosa partita per errore. Poi il pezzo mi è piaciuto moltissimo e nel corso del tempo ho ascoltato praticamente tutti i dischi di Vasco. Sono andato al primo concerto nel 1986, poi ho fatto, quello accompagnato diciamo, poi ne ho fatto uno all'87 da solo e poi 89 due volte, 90 a San Siro prima fila, rock sotto la sedia prima fila, insomma è stata una storia lunghissima. Allora, finalmente è giunto il grande giorno, ecco io ti aspetto numerosi sul palco, del Modena Park, Live.com 2017, l'evento del millennio.